Open Week Unisob 2023, dal lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, 5 giorni di attività o circa 80 attività parallele tra simulazioni dei test d'ingresso, lezioni demo, visita alla cittadella ma soprattutto laboratori, occasioni per formarsi ma soprattutto occasioni per orientarsi alla scelta universitaria. Sono invitati tutti gli studenti delle scuole secondarie superiore di quarto e di quinto anno, possono prenotarsi e scegliere personalmente le attività alle quali partecipare. Per saperne di più www.unisob.na.it. Vi aspettiamo.